Siamo con Antonino Burgio, presidente del Comitato Boccarena. Oggi una svolta per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti a Mazzara. È stato riattivato il servizio di raccolta da parte della società incaricata. Qual è la vostra posizione in merito? Può Mazzara essere liberata in breve tempo da tutto questo accumulo di rifiuti? Deve essere subito sgommerata. Io stamattina sono stato allertato dai cittadini di Boccarena, una scena agghiacciante per quanto mi riguarda. A fianco ai cumuli, alle montagne di spazzatura, c'erano i bambini che aspettavano la scuola bus. Io stamattina mi sono vergognato. Quella mattina sono stato in delusione, ma è finito. Io chiedo che venga ripristinata immediatamente la raccolta, perché non si può lasciare un comune in questo stato. Perché chi ne fa le spese sono i cittadini che si ritrovano nella spazzatura dappertutto. Io invito chi di competenza, le autorità competenti, a prestare attenzione a questo gravoso problema che sta affliggendo i cittadini di Mazzara del Vallo, ma in particolar modo quelli periferici che si ritrovano nella spazzatura in mezzo alla strada. Qual è la vostra posizione in merito all'illuminazione pubblica? Il nostro quartiere è proprio spento. Abbiamo il ponte di Boccanena, fatto dalla provincia di Trapane, fu spento. Abbiamo anche l'impianto provinciale che illumina la via California, via Napoli e via Margi, che le lampadine si vanno fulminanti. Io voglio porre una domanda a chi di competenza sempre. Ma queste lampadine chi le deve sostituire? Si può lasciare un quartiere appunto al buio, un ponte totalmente al buio e non so anche se appunto con qualche problemino a livello di illuminazione. Cioè è una cosa un pochettino paradossale. Io credo che sia giusto appunto che chi di competenza possa mettere, si possa attivare per cambiare quantomeno le lampadine e far accendere questo ponte che è ormai da mesi e che è completamente al buio e creandoci appunto difficoltà non indifferenti.